4-0, hai segnato, l'hai letta prima quella palla, sei andato a prendergliela perché avevi già capito che faceva quella giocata, si poteva forse scegliere una partita migliore di questa? Io credo di no, perfezione assoluta. Sì, sicuramente siamo stati bravi a restare compatti e partire in contropiede, l'abbiamo puniti su quello. Senti, ma magari qualcuno diceva che forse Udoge non ha quella voglia, tu stai dimostrando ancora più dell'anno scorso che hari quella fascia come se fosse la tua prima presenza in Serie A. No, sicuramente so che è una stagione importante per me, per la squadra, quindi cerco di dare il massimo ogni partita, ogni allenamento e migliorarmi il più possibile. Senti, ma sottili, che cosa vi dà da mangiare? Che cosa vi dà? Perché voi veramente siete completamente trasformati, si è visto nelle ultime settimane il lavoro che forse nelle prime uscite non si era ancora visto perché avevate bisogno di carburare, adesso siete tutt'uno col mister. No, sicuramente stiamo bene, in allenamento andiamo forte e penso che questo poi si veda in partita. Siamo una squadra che ha gamba, forte fisicamente, quindi stiamo bene in campo. Corsa suola adesso? Siete pronti? Sicuramente ora in settimana la prepariamo e siamo pronti a fare una gran partita.